Domani alle 17.30 presso il Museo Civico di Niscemi si terrà la presentazione del libro Bonjour Casimiro, Il Barone e la Villa Fatata, dello scrittore e giornalista Alberto Samonà. L'iniziativa organizzata dall'Associazione Agorà, presieduta da Salvatore Buscemi, a moderare l'incontro sarà la dottoressa Valentina Spinello. Con lei interverranno oltre all'autore Alberto Samonà, l'avvocato Pino D'Alessandro, cassazionista e scrittore, e l'attore Nunzio Buonadonna. Ad aprire la presentazione saranno il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, l'assessore della cultura Davide Derba e il presidente dell'Associazione Agorà Niscemi, Salvatore Buscemi. Il libro racconta la vicenda di un uomo contemporaneo, Giulio, che si reca nei luoghi in cui visse il barone Casimiro Piccolo, acquarellista e fotografo, il quale, a partire dal 1932, scelse di abbandonare la mondanità di Palermo per trasferirsi nella villa di famiglia, sulle colline di Capodorlando. Questo ritiro trasforma la vita di Casimiro, insieme a quella del fratello, il celebre poeta Lucio Piccolo, e della sorella Agata Giovanna, esperta di botanica. La villa spesso era frequentata anche dal cugino Giuseppe Tomasi di Lampedusa, chiamava a soggiornarvi per cercare spunti per quello che sarebbe stato il grande capolavoro letterario del Novecento, il gatto pardo. Le pagine di questo romanzo rappresentano un viaggio, un'immersione del protagonista nell'universo di Casimiro, popolato da gnomi, ninfe, maghi, folletti e da altri spiriti della natura che il artista affermava di incontrare nelle lunghe passeggiate notturne per i giardini e le campagne della tenuta e immortalava nei suoi acquarelli a tema magico. Bonjour Casimiro è un inno alla vera aristocrazia, non quella del censo ma quella dello spirito, ed è un invito a intraprendere un viaggio interiore alla scoperta di se stessi e di una visione universale che riconcili l'uomo alle leggi dell'assoluto.